L'ultima cosa che vorrei dire, che mi fa rire, a me personalmente, è la battaglia contro, per, il diritto delle donne di non depilarsi. È infietato? I carabinieri vanno in giro? Manganello, pistola? Manette e crema depilatoria? No! No! Puoi farlo! Ti vuoi non depilare? Ok! Mette scopo? No! Oh vedi qua, oh vedi? Bravi, bravi, qua, la verità, che mi fa strano perché è un concetto così basico il fatto che per una scelta estetica puoi non piacere, cioè è una questione dei gusti, no? Cioè non è bello quello che è bello, è bello quello che piace, pare una cazzata ma è vero perché io dico sempre che mi piace ragazze basse e magre, ma vedete sul parco io sono alto un metro e settanta per cinquanta chili, dal mio punto di vista bassa e magra è una nana arachidica, no? Io me scopo le minoranze, vaffanculo, praticamente mi faccio le serie sulla pubblicità di emergency, l'ho detto, l'ho detto, l'ho detto. Queste persone hanno bisogno di te, si... Eh no, eh, oh, hai visto prima a mondo, a mondo attacchi a cazzo.